NPR Matematica ci propone un semplice esercizio dove sono state rappresentate tre rette che hanno formato alcuni angoli e in particolare due di questi angoli sono stati indicati, 58 gradi e 122 gradi, mentre per gli altri angoli occorre l'esercizio e ci chiede di determinarne l'ampiezza. Quando abbiamo questo tipo di esercizi dove riconosciamo la presenza di due rette parallele intersecate da una trasversale possiamo andare quindi a rifarci al nostro schema di base che è questo qui che dovremmo avere sempre ben presente e a portata di mano dove abbiamo le classiche due rette parallele intersecate da una trasversale che vanno a formare questi otto angoli e che a coppie formano tutta una serie di particolari angoli, alterni interni, alterni esterni, corrispondenti, coniugati interni e coniugati esterni che hanno delle proprie età. In particolare questi angoli qui sono congruenti, ciò vuol dire che se prendo una qualunque coppia di angoli qui indicata questi due angoli avranno la stessa ampiezza, saranno uguali, saranno congruenti si dice. Invece se prendiamo le coppie che appartengono agli angoli coniugati interni o coniugati esterni bene, queste coppie formeranno, sommando i valori dei due angoli, un angolo complessivo di 180 gradi quindi sono coppie di angoli supplementari si dice. Il problema principale è a questo punto capire in che modo io posso prendere questa figura e riportarla in questo schema qui. Se notate è sufficiente ruotare il foglio in questa maniera qua e otteniamo quindi proprio le nostre due rette intersecate da una trasversale. L'unica differenza è che la trasversale è inclinata in questo caso verso sinistra mentre questa è indicata verso destra, ma il ragionamento, le definizioni continuano a valere e quindi possiamo applicarle. Quindi il primo esercizio da fare è disegnare queste due rette ruotandole, quel tanto che basta per farle diventare due rette così, parallele, intersecate da una trasversale che è questa. Ora, non avrò rispettato perfettamente le proporzioni, però l'importante è che adesso abbiamo un disegno molto più familiare che si può ricondurre a quello di cui conosciamo tutte le definizioni delle coppie di angoli. Dove si trova ora quest'angolo da 58 gradi? Beh, avendolo ruotato tutto il disegno, l'angolo da 58 gradi lo troviamo qua e l'angolo da 122 gradi adesso si trova qui. Vedete? Questo si trova in alto a sinistra e in effetti se ruoto il foglio questo si trova in alto a sinistra mentre l'angolo da 122 gradi si trova in questa regione interna a destra e così accade in questo caso qua, regione interna e a destra. Bene, partendo da questi due angoli non dobbiamo far altro che intanto capire a quali angoli corrispondono la nostra rappresentazione grafica. L'angolo da 58 gradi corrisponde all'angolo 1, quindi ce lo segniamo qui e l'angolo da 122 gradi corrisponde all'angolo 6, quindi ci segniamo qui il numero 6. Dobbiamo ora semplicemente analizzare le varie coppie a disposizione e quindi cercare gli altri angoli. Facciamo un esempio, prendiamo l'angolo 1. Notiamo che l'angolo 1 assieme all'angolo 5 forma una coppia di angoli corrispondenti. Gli angoli corrispondenti sono congruenti, sono uguali. Quindi, intanto vediamo qual è questo angolo 5. L'angolo 5 è questo qui, quindi 1 e 5 formano una coppia di angoli corrispondenti. Bene, l'angolo 5 è questo angolo qua. E se 1 e 5 formano una coppia di angoli corrispondenti, allora devono avere la stessa ampiezza. Quindi questo angolo varrà 58 gradi. Scriviamolo meglio perché non si capisce niente. Scriviamolo qui, più piccoletto, 58 gradi. E questo è l'angolo 5. Possiamo continuare, ad esempio, una cosa che possiamo fare è prendere proprio questo angolo 5 e notare che assieme all'angolo 4 lui forma una coppia di angoli alterni interni. Dove si trova l'angolo 4? L'angolo 4 si trova qua. Eccolo qui. E se sono angoli alterni interni devono essere congruenti, uguali. Quindi questo angolo deve avere la stessa ampiezza di questo. Quindi 58 gradi. Ed è l'angolo 4. Bene, possiamo continuare. Ad esempio, ci interessa calcolare questo angolo qua, che è l'angolo 2, no? Andando a scorrere la tabella, per esempio, possiamo notare che l'angolo 2, vediamo un pochino, lo possiamo accostare all'angolo 6, accoppiare con l'angolo 6 e formano, in questo caso, degli angoli corrispondenti. L'angolo 6 è questo qui. Se sono corrispondenti devono avere la stessa ampiezza. Quindi questo angolo, che è l'angolo 2, avrà la stessa ampiezza di questo angolo, quindi 122 gradi, e si chiamano angoli corrispondenti. Possiamo continuare, quindi, con questa analisi. Beh, cerchiamo adesso di prendere qualche coppia di angoli anche qui, per cambiare un pochino la modalità di svolgimento dell'esercizio. Per esempio, noi siamo interessati a calcolare l'angolo 7. E notiamo che questo angolo 7, se accoppiato con l'angolo 1, questo qua, forma una coppia di angoli coniugati esterni e dunque supplementari. Quindi la loro somma deve dare 180 gradi. Il nostro angolo 1 vale 58 gradi, quindi questo angolo deve valere 122 gradi, poiché 122 più 58 è uguale a 180 gradi. E abbiamo quindi giocato, in questo caso, con una coppia di angoli coniugati esterni. Continuiamo, abbiamo questo angolo 8. Pure per quest'angolo notiamo che può essere accoppiato con l'angolo 2. Questo angolo qua è formare una coppia di angoli coniugati esterni. Quindi questo angolo più 122 gradi deve dare 180 gradi. Quindi non può altro che essere pari a 58 gradi. Abbiamo trovato ora l'ampiezza di tutti questi angoli. Non dobbiamo fare altro che trasferire questi valori su questo grafico, che era quello di partenza. Ricordandoci che dobbiamo semplicemente ruotare questo disegno quel tanto che basta per sovrapporlo su questo. Quindi questo angolo corrisponde a questo. Questo corrisponderà a quest'altro, 122 gradi. Ops, qua manca ancora un dato. 58 gradi è questo. Questo corrisponde a questo angolo, questo corrisponde a 58 gradi. E questi due corrispondono a questi qua giù. 58 gradi e 122 gradi. Ora manca questo angolo qui, che possiamo andare a calcolarci andando a notare che questo angolo 3, se accoppiato con l'angolo 7, forma una coppia di angoli corrispondenti. L'angolo 3 con l'angolo 7 si accoppia in questa maniera e quindi non può altro che essere pari a 122 gradi. Quindi avere ampiezza pari all'ampiezza dell'angolo 7. Questo è il nostro angolo 3. E con questo abbiamo dunque risolto il nostro esercizio. Grazie per l'attenzione e alla prossima!